Noi della sezione Toscana Umbria di AIGI abbiamo da tempo incentrato la nostra attenzione su un focus particolare, quello della formazione, perché la concepiamo come un percorso di valorizzazione sia dal punto di vista umano che professionale della figura del giurista d'impresa nell'ottica di un allargamento dei suoi orizzonti affinché possa svolgere al meglio il suo ruolo all'interno dell'azienda e sappia anche non solo risolvere i problemi giuridici ordinari che si pongono nell'attività dell'impresa a cui appartiene ma anche le sfide che soprattutto questi tempi di pandemia ci pongono di fronte. In quest'ottica abbiamo ritenuto importante creare dei ponti verso quegli enti, quelle istituzioni che si occupano di formazione o che comunque hanno la formazione al centro della loro attenzione con riferimento all'attività dell'impresa in ambito legale. Per questo motivo già da diversi anni abbiamo avviato collaborazioni per esempio con le associazioni delle imprese, con il mondo dell'università e con gli ordini professionali. Ricordo ancora un convegno di diversi anni fa presso l'Università di Firenze che aveva proprio come titolo il ruolo del giurista d'impresa al crocevia tra azienda, università e professione proprio per questo motivo ed infatti con l'associazione Confindustria Firenze e Toscana abbiamo stipulato anche una convenzione come sezione AIGI per l'organizzazione di convegni, seminari, eventi formativi rivolte alle imprese associate. Con l'Università Apparimenti abbiamo seguito un percorso di accordi in convenzione per sviluppare delle iniziative formative volte a trattare il tema dei conflitti all'interno delle imprese nei confronti dei clienti e dei fornitori delle imprese stesse. Ancora riguardo al mondo professionale abbiamo fatto degli accordi con gli ordini professionali, addirittura la nostra è stata la sezione che per prima ha organizzato con la Fondazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze un master in diritto dell'impresa che ha avuto anche un grande successo perché c'è stata una grande partecipazione e tra l'altro ha visto come protagonisti i docenti, giuristi d'impresa e professionisti. Riteniamo quindi che questo sia un elemento chiave nello sviluppo del ruolo del giurista d'impresa.